Mario Einaudi, ex presidente del Legam, è stato il primo fra i grandi padroni pubblici a dimettersi dal suo alto ufficio. Il suo mandato è durato circa due anni, dal 73 al 75. Doveva rimettere in piedi un ente minerario di Stato. Ne ha fatto un feudo personale, acquistando navi, immobili, giornali. Era convinto di aver fatto dei buoni affari, dopo aver seguito una linea di sviluppo aziendale che aveva portato Legam ad essere il primo operatore nazionale nei settori meccanotessile, metallurgico, minerario. Una espansione che era però costata molto cara al contribuente italiano. L'ente, infatti, aveva accumulato perdite per oltre 116 miliardi. Malgrado ciò, Mario Einaudi puntava più in alto. Nasce così un nuovo intreccio finanziario, quello Italcas, che si collega con un altro grande lemosiniero dello Stato, si fa per dire, Arcaini, coinvolto sino al collo dall'inchiesta dei cosiddetti fondi bianchi. In breve, il 24 maggio del 1975, Francesco Tomellini Fassio e Alberto Fassio cedevano alla Vetrocoq Coca Puana del gruppo Egam il 33% del pacchetto azionario della società Villain Fassio. C'era in ballo, appunto, l'acquisto di navi, di immobili e anche di giornali, come il Corriere Mercantile e il Giornale del Lunedì. Il prezzo pattuito fu di 11 miliardi e 550 milioni. Per pagarli, Einaudi si rivolse all'Italcasse, che gli prestò la somma dietro pagamento di un 19% di interessi. La Villain Fassio, prima di questa operazione finanziaria, era a terra. Al momento della trattativa, la crisi di liquidità emergeva in tutta la sua drammaticità e così venne dichiarata fallita. La perdita per l'Egam fu completa e così pure il danno per lo Stato. I misfatti di una persona divennero una passività della collettività. Il Parlamento ne prese atto e il Governo, dopo una dura battaglia con l'interessato, decise la rimozione dall'incarico di Mario Einaudi. Questi si disse subito vittima di congiure politiche e sostene di aver operato con l'avallo del Ministero delle Partecipazioni Statali, ma il Ministro del Tempo, Antonio Bisaglia, fu di avviso contrario. Non soltanto i politici, anche la Procura della Corte dei Conti volle vederci chiaro e vennero fuori le prove dell'illecito amministrativo e della colpevolezza dell'ex Presidente del Legam. Per la Corte non fu errore professionale, ma dolo. Tutta l'operazione venne definita avventurosa, illegittima, macroscopicamente avventata e realizzata al di fuori del margine della discrezionalità tecnica e operativa, connessa ai poteri attribuiti al Presidente del Legam. La Corte dei Conti chiese la restituzione personale dell'intera somma dell'affare Villenfassio, 11 miliardi e 550 milioni. Un vero record. La massima pena pecuniaria inflitta dalla Corte agli amministratori avventurosi è stata di un miliardo. Ma non è da escludere che l'inchiesta sui fondi bianchi dell'Italcasse possa forzare anche le casseforti di altri disastri economici consumati con denaro pubblico. Un elenco al quale non vogliamo mettere limiti, malgrado la crociata della moralizzazione, porti una data recente. In una cosa aveva visto giusto l'ex Presidente del Legam, ora in stato di arresto, quando già all'epoca della sua estromissione lanciò questo ammonimento. Sono pronto ad accettare lezioni di sana amministrazione, ma non mi pare che oggi siano molti imprenditori pubblici in grado di scagliare la prima pietra. Cronaca di ieri e di oggi. Un lungo intreccio di scandali, dei quali quello di Einaudi ritorna ora alla ribalta per volontà della magistratura.